Proprio domani, martedì 24 di maggio, sarà a Piacenza il generale Marco Bertolini, attuale presidente nazionale dell'Associazione Paracadutisti d'Italia. E in questo momento, insieme a me su Radio Sound, abbiamo il presidente dell'Associazione Sezione di Piacenza, Daniele Benzi. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi questa mattina qui su Radio Sound. Grazie a voi. Grazie. Parliamo di questo convegno intitolato I cristiani in Medio Oriente, proprio in programma domani, 24 maggio, alle ore 18, presso il Palabanca Iventi. Dunque, il generale Bertolini è un attento e studioso, appassionato delle religioni, in particolare quelle monoteiste nate nella regione, e conosce bene anche per ruolo professionale che ha ricoperto le difficoltà, le contraddizioni, l'ambiente sociale in cui sono inserite queste comunità e le difficoltà che vivono e a volte subiscono queste comunità nella regione Medio Orientale. Ha decisamente un'abitudine professionale nell'analisi delle notizie e nella presentazione delle stesse. Quindi è senz'altro uno sguardo d'insieme molto oggettivo e completo. Si può sicuramente scoprire qualcosa in più anche, mi viene da dire. Probabilmente sì, da una visione oggettiva, ma a cui viene arricchita da considerazioni personali dell'uomo, che è il generale, insomma non ha peli sulle lingue, diciamo così, e quindi ecco... Tra le altre cose è uno di... Uno sguardo d'insieme completo, dopodiché dice io la penso anche così. Certo. Quindi può essere senz'altro una chiacchierata molto interessante e quanto mai attuale in questo momento. C'è la possibilità di poter partecipare, immagino? Sì, abbiamo già un centinaio di presenze confermate, però c'è ancora posto chi volesse aggiungersi. Siamo ospitati nella sala convegni di Palazzo Galli. Ecco, a questo proposito vorrei rimarcare anche la collaborazione che Banca di Piacenza fornisce ad Ampi ormai da diversi anni, a partire dalla realizzazione del nostro monumento e anche in questa occasione ho messo a disposizione la sede di Palazzo Galli, che è un ambiente decisamente consono e prestigioso. Adatto all'evento, sicuramente. Allora, per chi volesse partecipare c'è una mail o un numero da chiamare o si può presentare direttamente domani? Allora, meglio se chiama, c'è la mail dell'associazione che è piacenzachiocciolaassopar.it Sì, e così in modo tale da poter partecipare. Se manda un'email, noi verrà immediatamente ricontattato e daremo la nostra... Ricordo che il generale Marco Bertolini è uno dei generali più decorati e operativi delle nostre forze armate, quindi sicuramente mi ha vissute di esperienze e è di certo bello poter partecipare ad un evento del genere. Il generale è senz'altro una figura iconica per i paracadutisti italiani, è figlio d'arte, il padre era paracadutista durante la seconda guerra mondiale, è un ufficiale d'accademia, da subito su domanda viene assegnato alle forze speciali, dove ha ricoperto tutti i ruoli di comando. Poi è diventato capo di Stato Maggiore della Brigata Paracadutisti, comandante e primo ufficiale italiano a ricoprire il ruolo di comandante di capo di Stato Maggiore dell'ISAF, la missione nata in Afghanistan, e ha concluso la carriera nel 2016 come comandante del comando operativo Interforze. Una carriera veramente ricchissima. Io sarei qui a parlarne ancora, ma il tempo è quello che è, quindi ringrazio veramente tanto il presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti, sezione di Piacenza, Daniele Benzi. Grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio Sound. A voi, grazie mille. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.